A Napoli il giorno della Santa Pasqua si fa la fellata, cioè il tagliere in italiano, il tagliere di salumi misti e formaggi e il napoletano si è inventato il casatiello, eccolo il nostro casatiello, fatto con gli avanzi dei salumi e dei formaggi e veniva fatto il lunedì in Albis, cioè la Pasquetta, veniva fatto questa sorta di fellata, cioè di tagliere misto con salumi e formaggi portatile cioè si portava questo casatiello nella vacanza della Santa Pasquetta, il giorno dopo Pasqua, lunedì in Albis si portava questa sorta di tagliere portatile avvolto nel pane e con le uova sopra A Napoli quando parliamo di casatiello già ci viene l'acquolina in bocca perché è un pane pieno, ricco di salumi e di formaggi che stuzzicano in pieno le papille gustative salgono a palla praticamente andremo a fare una ricetta facilissima, rapida e buonissima se volete vedere questa magnifica ricetta guardate questo video Salve a tutti amici, benvenuti nel mio angolo di pasticceria oggi parleremo della rosticceria classica napoletana il famoso casatiello il casatiello della Pasquetta, si faceva a Pasquetta, ora si fa in tutti i mesi dell'anno, giorni, quando vogliamo noi e anche il sabato e la domenica di Pasqua si mangia il casatiello mi raccomando andate a guardare sempre le schede bianche adesso compare la scritta con la scheda bianca dolci di Pasqua, mi raccomando seguite tutte le mie ricette guardate sempre le schede bianche che compaiono nei miei video nella nostra ricetta abbiamo utilizzato semplicissimo levito di birra potete usare benissimo anche il levito madre indicherò nella ricetta come fare per farlo con il levito madre noi abbiamo messo le uova solo all'esterno per far sì che qualcuno che non piacciono le uova internamente può scegliere di mangiarle o meno proprio come la classica fellata della Santa Pasqua a Napoli andiamo a fare questa bellissima ricetta allora la ricetta per casatiello napoletano questa è una dose per uno stampo da 26 cm classico stampo da casatiello abbiamo 650 grammi di farina 0 320 ml d'acqua 70 grammi di strutto 20 grammi di sale 20 grammi di zucchero o malto se avete malto 8 grammi di pepe nero macinato per il levitino abbiamo 5 grammi di levito di birra fresco oppure secco a due e mezzo 50 grammi di farina più 30 grammi di acqua e facciamo il pianetto come vedrete nel video se avete lievito madre invece direttamente 100 grammi di lievito madre e si fa lievitare ovviamente molto più lunga la lievitazione per il ripieno abbiamo 700 grammi di misto di cui salame Napoli, cicoli freschi, prosciutto cotto, formaggio romano e provolone piccante poi se avete altri gusti ovviamente potete mettere ciò che volete 4 uova intere lavate ovviamente prima di inserire all'esterno per quanto riguarda il ripieno potete mettere ciò che volete allora per prima cosa lo andiamo a impastare a mano ovviamente andiamo a fare il levitino con il lievito di birra vedete i 5 grammi di lievito fresco che ho usato nel video li vado a sciogliere nell'acqua in questo modo sciogliamo per bene l'acqua e il lievito ovviamente se abbiamo lievito madre facciamo il rinfresco basta un solo rinfresco di lievito madre uguale a come sto facendo io potete vedere il mio video di lievito madre e inserite i 100 grammi di lievito madre dopo che è triplicato il suo volume lo andate ad inserire allo stesso modo che farò io nel video ecco a questo punto stiamo impastando il lievitino al lievito di birra se avete il lievito secco ce ne vuole la metà della dose di lievito sempre la stessa dose di farina e acqua però ecco fatto un panetto vado a fare questo panetto ecco vedete che man mano si va ad impastare facciamo questo panetto non ha bisogno di una grandissima incordatura ma bensì basta che si amalgamano tutti gli ingredienti ecco fatto il lievitino in questo modo andiamo a girare ecco vedete fatto tutto interamente a mano ecco in questo modo diamo l'ultima impastata con le mani e poi lo andiamo a inserire in un recipiente io ho utilizzato questo qua di vetro voi potete usare qualsiasi recipiente l'ideale sarebbe di vetro andiamo a fare mettiamo la classica croce mettiamo un po' di farina mi sono dimenticato un po' anche sopra e andiamo a chiudere con carta con pellicola scusate ecco e andiamo a porre in un ambiente come al solito sui 28-30 gradi potete farlo benissimamente nel forno andiamo a accendere il forno a 30 gradi poi lo spegniamo e aspettiamo che triplica il suo volume ecco il nostro levitino in questo caso con le vito di birra dopo circa 30 minuti è pronto vedete magnificamente levitato e lo andiamo a inserire nel primo impasto in questo caso se avete le vito madre fate la stessa cosa per il rinvesco le vito madre e adesso al triplicare del suo volume lo andiamo a inserire in questo momento nell'impasto facciamo la classica il classico cerchio di farina in questo modo ecco faccio sì che possano vedere tutti l'impasto a mano del casatiello come si realizza nell'altro mio video del casatiello ho impastato con la planetaria dove c'era anche la mia bellissima Denise mia figlia che adesso non vorrei fare più video purtroppo andiamo a inserire circa un terzo dell'acqua e iniziamo a impastare levitino che abbiamo fatto e anche levitomare ovviamente abbiamo levitomare con l'acqua in questo modo vedete e andiamo a inserire la seconda parte la seconda parte di acqua ecco e continuiamo ad impastare e poi man mano a questo punto che abbiamo spezzato un po' il lievitino nell'impasto andiamo a inserire lo strutto il pepe e continuiamo ad impastare levitomare e tutti e tre ingredienti poi andremo a inserire il sale e lo zucchero lo vado a mettere lateralmente alla farina in modo tale che a impasto ultimato vado a raggruppare insieme alla farina anche il sale e lo zucchero adesso stiamo impastando questi tre ingredienti ecco a questo punto metto sale e zucchero vedete lateralmente sulla farina in modo tale da raggrupparlo infine a impasto ultimato insieme alla farina continuiamo ad impastare centralmente gli ingredienti e man mano ci tiriamo anche la farina e ovviamente alla fine ci tireremo anche il sale e lo zucchero che abbiamo inserito adesso in questo modo vedete ecco qui in questo momento completiamo l'impasto ci rimane solo una parte di acqua da inserire che inseriremo fra poco ecco l'ultima parte di acqua inserita l'ultima parte di acqua è completato l'impasto e andiamo a far assorbire la farina con tutti gli ingredienti fino a ottenere fino a ottenere un impasto morbido ogni tanto mi vado a pulire le mani usiamo un raschietto o di plastica come ce l'ho io adesso o di ferro come preferite basta che andiamo a togliere tutta la farina che giustamente sta sul piano e continuiamo ad impastare il tutto l'impasto non durerà più di 10-15 minuti massimo riposo incluso per l'impasto una levitazione ecco vedete che l'impasto man mano va a prendere corpo sarà un impasto abbastanza sostenuto non molto molliccio proprio per il fatto che deve essere ben tenace per sopportare anche la levitazione e poi quando andiamo a rotolare con il misto non usiamo tantissima farina cioè io in questo video vi faccio vedere di come stenderlo direttamente a mano senza neanche il mattarello ma lo stenderò proprio a mano non usando neanche tanta farina anzi niente proprio proprio perché l'impasto è bello tenace e sostenuto così deve essere altrimenti avremo un casatello molto umido perché purtroppo quando facciamo l'impasto troppo umido quando andiamo a rotolare tutti il misto all'interno rischiamo di fare un pasticcio perché poi l'impasto si va a pesantire e non ha la forza diciamo di di salire nella levitazione giustamente ecco fatto ciò facciamo riposare giusto due tre minuti il tempo che ci puliamo un po' le mani e dopo circa due tre minuti andiamo di nuovo ad impastare con le mani in questo modo dal basso verso l'alto a ruotare l'impasto al fine di fare una un impasto ben solido vedete e lo andiamo a mettere in un recipiente io uso questo recipiente d'acciaio che ho pesato la farina vado a mettere in un recipiente coperto sempre da pellicola trasparente e facciamolo evitare fino al triplicare il suo volume possiamo mettere sempre in forno preimpostato a 30 gradi poi lo spegniamo al triplicare del suo volume ecco al triplicare del suo volume vedete possiamo formare il casatello lo possiamo stendere che abbiamo un impasto abbastanza rilassato e adesso vi faccio vedere come stenderlo con le mani ecco vedete come ben rilassato formiamo un rettangolo ovviamente magari prendiamo prima la misura che andrebbe che può andar bene diciamo secondo voi del casatello così non rischiamo di farlo troppo piccolo o troppo lungo più o meno a occhio potrà essere di circa 50-60 cm di larghezza e 40 di lunghezza ecco vedete come si è steso alla perfezione tagliamo questi piccoli bordi che andremo a fare i pezzi di impasto a croce sopra le uova esterne vado a togliere anche quest'altro pezzo laterale ecco in questo modo questo sarà l'impasto che ci servirà dopo per fare le croci sulle uova e vado a stendere in modo molto omogeneo più o meno la stesura sarà di 5 cm 5 mm più o meno vedete ho fatto tutto con le mani senza usare matterello e vado a mettere tutto il misto internamente a questo rettangolo ovviamente il misto deve essere abbondante ma non eccessivamente che si deve dobbiamo anche gustare diciamo l'impasto che è molto saporito vedete vi ho dato la dose giusta rimanete giusto un 50 grammi 40-50 grammi di misto che andrà si metterà lateralmente quando andremo a chiudere adesso io vado a mettere lo strutto vedete io ho comprato direttamente una vaschetta da 250 grammi di strutto e ho fatto e ho fatto il tutto e fa anche rima e vado a cospargere di strutto lo stampo come si fa anche con il burro voi potete fare con olio o burro come vi pare però l'ideale è con lo strutto e vado a arrotolare piano piano vedete in questo modo vedete con l'impasto tenace come è facilmente lavorabile invece se lo fate troppo molle si va in difficoltà il finale del diciamo del rotolo lo vado ad assottigliare con i pollici in modo tale da farlo risultare più facilmente attaccabile al finale guardate in questo modo ovviamente se cadono dei pezzetti non fa niente li mettiamo all'interno quel misto che abbiamo conservato adesso lo metteremo vedete ai lati perché dove risulta sempre che nella giuntura il casatello ovviamente è tutto in pasto e noi andiamo a riempire con il misto adesso vado a mettere una piccola parte di strutto e vado a cospargere di strutto tutto il rotolo che ho fatto non in grandissima quantità giusto una piccola parte per farlo ungere con lo strutto che quando poi si cuocerà si scioglierà e diventerà quella quel sapore particolare tipo una sfogliatura ovviamente non esageriamo con la quantità di strutto altrimenti sarà molto pesante avrà lo strutto sotto ovviamente nel ruoto e lo strutto vedete ho chiuso in questo modo dove abbiamo messo il misto apposta non risulterà senza solo pane diciamo come vi dicevo ha avuto lo strutto sotto al ruoto e lo strutto abbiamo messo nuvito laterale che andrà anche sopra in questo modo e vado a schiacciare per renderlo più uniforme adesso prenderò il pezzo d'impasto andrò a ricavare otto pezzi perché sono quattro uova dopo ovviamente lavate le uova vedete sono ancora bagnate devono essere bagnate vado a ricavare otto pezzi che saranno due cruci cioè una cruce per ogni uovo di due pezzi per quattro otto pezzi e vado a fare i salsicciotti in questo modo vedete e arrotorerò il pezzo d'impasto in questo modo prima in un senso se vedo che è troppo grande lo potete togliere ovviamente io ho fatto poco 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 troppo grandi vado a fare il primo giro e poi il secondo a croce in questo modo mi sono allargato troppo con l'altezza e farvi vedere a volte non mi rendo conto neanche io vabbè alla fine si vede che l'uovo va ingabbiato con l'impasto in questo modo la giuntura va sotto ovviamente e vado a mettere il primo uovo proprio sulla giuntura del casatillo boom ho buttato l'uovo per l'aria e vado a fare la stessa cosa per tutte e quattro uova in questo modo ecco vado a ingabbiare anche il secondo uovo e farvi vedere la distanza che prenderò tra uno e l'altro farò sempre uno di fronte all'altro in modo tale da prendere bene la distanza e vado a schiacciare un poco poco non schiacciate troppo altrimenti farete la frittata e dovete togliere di nuovo tutto ecco qua ho messo quattro uovo potete mettere anche cinque sei dieci come me ne pare penso che quattro l'ideale e vado a mettere sempre in un ambiente un forno per riscatare a trenta gradi per far levitare in questo modo vedete e poi spengo il forno e dopo circa due tre ore vedete che spettacolo il mio casatillo bello gonfiato ovviamente ho usato questo stampo potete usare anche uno stampo più grande perché mi piace alto voi potete usare anche uno stampo più largo magari da ventotto o addirittura trenta però verrà più bassa come fetta se vi piace più bassa e vado a infornare a cento novanta gradi per circa cinquantacinque sessanta minuti vado a mettere nel centro basso del forno cioè un binario sotto al centro del forno e dopo cinquantacinque massimo sessanta minuti il nostro casatello è pronto guardate che spettacolo un odore in casa incredibile ve lo dico proprio data anche dai salumi dal pepe che sta nell'impasto nello strutto che evapora e dà quell'odore fantastico poi dopo circa almeno tre ore di raffreddamento il nostro casatello lo andiamo a girare e togliamo lo togliamo dallo stampo vedete cottura perfetta e lo metto su un piatto io potete mettere ovviamente dove vi pare ecco guardate che spettacolo il nostro casatello il nostro casatello vado a fare il solito assaggio vedete che spettacolo da premettere che questo è un casatello che rimane morbido anche dopo due tre giorni ancora morbido ragazzi mi raccomando se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like iscrivetevi al mio canale seguitemi sui social facebook e instagram mi raccomando guardate sempre le schede bianche che compaiono in alto durante il mio video ragazzi mi raccomando commentate sotto a questo video che come sempre vi risponderò a tutti un bacio a tutti alla prossima ricetta